Ultimo giorno di campagna elettorale, domani pomeriggio l'insediamento dei seggi. Dopo due anni e due mesi di commissariamento del comune, a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, il capologo Dauno torna a esercitare il diritto di voto. Mancano infatti poche ore all'appuntamento elettorale di domenica 22, lunedì 23 ottobre, per scegliere il sindaco e i 32 consiglieri comunali. Nel caso nessun candidato alla carica di primo cittadino riesca a superare il 50% dei consensi, si renderà necessario andare al ballottaggio previsto per le giornate del 5 e 6 novembre. Cinque i candidati a sindaco, di cui due esponenti delle coalizioni di centro-sinistra e centro-destra, rispettivamente Maria Ide Episcopo e Raffaele Di Mauro, tre i civici, Nunzio Angiola, Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero. Una schiera di 23 liste e 700 candidati si sono dati battaglia in una breve campagna elettorale, iniziate in ritardo per le difficoltà delle due coalizioni a trovare l'intesa sui candidati e durata poco più di un mese. Gli ultimi giorni hanno visto sfilare vari big della politica nazionale, da destra a sinistra, passando per il centro, giunti nel capologo da uno per tirare la volata alle urne del proprio candidato sindaco, con comizi, incontri e passeggiate per la città. Intanto ieri è stato il giorno del commiato dei tre commissari straordinari che hanno traghettato la città in questo travagliato momento storico, segnato da una profonda crisi economica, sociale e culturale. Abbiamo lavorato con dedizione e impegno fino all'ultimo giorno utile, ora non resta che dire auguri foggia. Queste le parole rivolte alla comunità da parte della Commissione straordinaria che rimarrà in carica fino all'insediamento del sindaco. A mezzanotte fine dei comizi, poi il silenzio elettorale.